Il decreto sostegni, sul decreto sostegni si è al lavoro e speriamo di poter mettere in atto tutte le misure necessarie che il nostro mondo, il mondo quello dello sport, ha bisogno e necessito urgentemente anche perché più di chiamare sostegni io li chiamerei indennizi per tante associazioni palestre che in questo anno sono state praticamente chiuse. Ma ci arriveremo prima della fine di giugno? Arriveremo prima alla fine di giugno, il decreto sostegni verrà varato a breve quindi sicuramente è questione di giorni.